l'hai eseguito bene pulendo bene la macchina eccetera eccetera si hanno fatto la gara con tanti tanti paesi perché è mondiale no, mi sono scappato ciao 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 Buongiorno a tutti i miei clienti e ragazzi del marina de gol, in questo anno mi piace, molto piacevano il bianco, 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 anche possono essere con una strada o con due strada